Ah ok ragazzi io sto aspettando il mio contatto dov'è? Dov'è finito? Sei tu il mio contatto? Ehi! Ehi! Ragazzi non capisco non riesco a trovarlo Ah lo sto aspettando da ore ormai Ehi ciao! Sono io il tuo contatto! Cosa? MASTARDO! Questo sta facendo? Ehi! Ma cosa mi sta facendo la macchina? Ehi giù le mani! Ma beccati questo! Idiota! Idiota! Memo calmati mi hai dato un calcio nelle palle! Ho visto! Ma io ti rompo i fanati! Tu lo sai quanto mi ho pagato questa macchina? Stai fermo! Dannazione! Senti ma con quella macchina noi dobbiamo... Sta fumando! Sta fumando merda! E che so l'incredibile Hulk che sfascia la macchina a calci? BASTA! Volevo picchiare la macchina! Aiuto ma questo è matto! Ma che razza di contatto mi hanno dato? Ok senti facciamo una cosa Ho una macchina giusto qui di riserva di un mio amico Ma comunque devo essere molto forte se riesco a rompere una macchina a calci Comunque benvenuto nella malavita eh No! Fuori dalla... Ma cosa fai? No! Guardi di qui! Lion! La macchina è mia! Torna indietro! La polizia fermatelo! No! Perché la polizia ce la fa? Senti va bene, entro da te, entro da te! Fami intratelo! Io laio! Laio cosa fai? No! Lo so! Stanno arrivando! Scappiamo scappiamo! Lion! Corri! 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 Oh stavo per inverno! No! No! Cos'è cosa sta succedendo? Lion! Non scampo con un'altra macchina! Va bene dai! Dai! Calci! Cavolo c'è la polizia che mi sta dietro il culo! Aiuto! Sì sì sono io vai seguivi! Prima dobbiamo comunque seminare questi sbirri! Bastardi! Bastardi! Vi ammazzo io! Fuori! Gatti stanno sparando anche tanto! Ho visto mi hanno distrutto il finestrino ormai non ci vedo niente! Corri! Corri! Scappa! C'è la polizia! Fugi sciocco! Qua sotto! Ho trovato un lion! No! Santo cielo! Santo cielo! E nevo anch'io! Eccomi! Vieni dobbiamo andare dietro la nera con il culo enorme! Vieni di qua! Ma aspetta c'è l'auto della polizia guarda che bella! Eh lo so ma... Vediamola! Cuidado! Ehi! Cazzo! Ehi pirata del parciapiede! Dove sta? Dove è andata? Non lo so ma aveva un sacco di capelli se ce la dovremmo vedere per... Dove è andata? Aveva un sacco di capelli! Era proprio una big mama! Capito? Ah sì big mama quelle là che trovi tipo nelle chiese... Eh che cantano il gospel! Sì il gospel! Alleluia! 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 Lion vai un po' più lento non mi fido qua! No perché poi quello scappa! L'ho visto dov'è? Vai! E' di fronte è quello rosso Gabby lo vedi? Vai a prenderlo! Nessuno vieto! Madonna mia! Madonna al calcio e pugni in gola! Vai schiva 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 vai! Schivo! Qual è? Ci siamo! È davanti a noi è l'auto... Quella rossa! È l'auto bianca no! È quella nera che si muove a zig zag è quella! Gli vado alle costole alle calcate! Vai! Gabby! Spero non le male! Sparagli tu eh! Sporgiti! Io tengo premuto il tasto destro! Ah io... Ma porca troia questo qua non sapeva dove andare a girare! Dai Lion non ci penso io! Ah ma che cavolo! Ma dai ma questo ci viene addosso! Perché stai andando a contromano! E' qua! E' qua! E' quello! E' quello! Mi sto sparando! Aspetta ci siamo messi nei casini! Ci siamo messi nei casini! Scappa! Non abbiamo fatto niente! Sì ma perché l'abbiamo sparato! Corri Lion! Ma che mai! Lion! Sta arrivando! Sì sono un fucile a pompa bellissimo Lion! E' mai rubato dalle mani fredde di un poliziotto! In pensione! Allora qua ci sono dei poliziotti con le mani calde! Cioè sta arrivando ti sto seguendo! Basta! Uuu! Hai visto che hai colpo! Gli ho fatto un ecciotto assurdo! L'hai ammazzato? Sì! L'abbiamo sistemato! Ma sei stato fruilissimo! Mamma mia! Grandioso dai! Mamma mia che colpo da... Aspetta! Per sfregio tamponiamogli anche la macchina! Roviniamole là così non torna più! E capisce la lezione! Mi sa che è tornato è qua! E' infatti è qua aspetta adesso lo ho pesco! Eccolo lo vedi lo vedi? Ha tirato una granata! Porco cane Lion! Ma è il cappellino da mafioso! Ma è il mafioso! Che cattivo! Era John Lennon moribondo! Aveva tipo gli occhialini di John Lennon! Sono traumatizzato da quello che ci ha fatto! Prendilo sotto! Mi vuole sparare Gabi! Ti sto aiutando! Ah lo hai vestito! Bravo va! Aspetta arrivo arrivo arrivo! Oh lo sto! Gabi non muore mai! Aspetta provo! Bastardo! Ok ok! Oh l'ho fatto fuori l'ho fatto fuori che grandioso! Madonna che paura! Mi sto visto la vita passare! Stanno sparando ancora con i poliziotti! Oh senti! Scandiamo! Scappa! Scappa! Scappa veloce! Lion! Io credo a... Mamma mia ma qua! Los Santos è pericolosa eh! Sì! Lion! Oh! Ma Emma mia! Che cacchio stai facendo? Scendiamo! Scappa Gabi! Stavolta guido io eh! Non mi scende Gabi! Merda! Ecco! Ecco! Gabi! Sono uscito dalla parte sbagliata! C'era un po' lì! Io ho rubato un hammer però! Un martello! No! Quello più grosso! Dove stai? Stai attento c'è quello cattivo! È diventato il nostro arci nemico quello! Sì! Sono io questo! Vai 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 coprimi! Oh! Ha ci ha tirato un lancione a razzi questo! Ma lo ve l'ha trovato! Ma lo ve l'ha trovato! Eh! Senti adesso guido io Lion! Ti mostro come si guida! Ok! Come guida un vero gangsta! Dai! Vai! Vi seminiamo tutti! Vai! Intanto prendiamo sotto mister lanciarazzi! Vieni qua! Vieni qua Lion! Vieni qua! Mi sparano! Ma perché mi sparano a me? Veloce! Veloce! Scappa! Scappa! Vai vai vai! Sei vivo? Sì! Ok! Perfetto! Scappa! Sta scappando! Sta scappando! Ah! Ci hanno bucato una bomba! Ci hanno bucato una ruota! Verda! Scappa! Scappa lo stesso! Tranquillo Lion ci penso io! Con me sei in salvo! Sì! Sei in buone mani ora Lion! Sennò male! Resisti! Ritenniti una mano al petto e... Lion non son ferito! Ah! Merda! Con una gomma buccata è difficile guidare! C'è un ciccione su un motorino! Buttato! Oh! Quello ci tira bombe! Sì! Mi ha detto prima non si tocca! No! Scappa! Lion questo qua ci vuole far fuori! Ci attacca a te non... Scappa in mezzo alla macchia! Scappa dritto! Dritto! Qua! Qua! Guarda sulle scale! Non cadere in piscina! No! Siamo al cimitero Gabi! No! Che fuoco del posto orribile! Che cazzo ci facciamo? Lion! Guarda che copo! Vai 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 bene vai bene! Guarda che copo! Guarda che copo! Le miglia scalini del... Del Tibet! Ci sta seguendo! No! C'è dietro il culo! Eh! Che non so che fa! Tira una granata! Non ho le granate io! Lion si fa una gita in campagna adesso! Vai! Questa gita in campagna ti sta piacendo! Tu mi hai sempre detto da giovani che volevi andare in campagna! In campagna! Vai dritto e ci ammazza! Ecco l'altro! Sbuca! Attento ai cavi! Sbuca! Vai dritto! Dritto! Sì sì! Bravo vai qua! Sì sì! So dove andare! Lo stiamo perdendo! Lo stiamo perdendo! Vai vai vai! Addio i segni stradali! Oh mio Dio! Secondo me si è incattivito per colpa nostra! Perché l'abbiamo ammazzata! Gli abbiamo fatto un po' fastidio quando siamo arrivato lì! È un torto! Mamma mia! Ma che dici cambiamo macchina? Ma guarda che mi sto trovando bene! Ma mancano due ruote! Guido meglio senza ruote! Ma beh allora! Ma poi c'è un tizio con l'elicottero sopra di noi! Aspetta qua! No merda! È vero! Ma chi sono quelli? Forse sono amici! Ci stanno stalkerando! Chi è con l'elicottero sopra di noi? Ci stanno seguendo i nostri fan! Sono italiani! Sono i nostri fan! Sono i nostri! E veniteci a prendere! Aiuto! Posto di blocco! Gabby sali pure tu! Non andate senza di me! Gabby! Non voglio rimanere a terra! Gabby aiuto! Avete dimenticato me! C'è un elicottero che ci sta seguendo! Porca di quella pucchinchia! Quando arriva l'elicottero arriva anche il casino! Lion! Eh! Quattro 360! Bella questa 360 no scope! Facciamo irruzione! Ha tolto la pistola Gabby! Ma che figura di merda! Sì ma! Signorina noi vorremmo rapinarla! Aspetta ma c'è un tizio fuori che mi sta guardando con un mitra in mano! Ci aspetta fuori questo! C'è un bullo! Usciamo e picchiamolo! Appena usciamo quello ci spare! Usciamo e picchiamo! Dov'è? Aspetta no aspetta vediamo se... Esci prima tu! No tolto l'arma! No amico! Picchiamolo lo stesso! No sono amici! No sono amici! Fermo dai un amico! Da sei ora scappo dentro! Scusa scusa scusa! Lion Lion si è fatto prendere da un raptus di rabbia! Ho trovato un baro! Dimmi dove stai io sono! Fermo la dammi soldi dammi soldi bastardo! Dammi soldi dammi soldi bastardo! Dammi soldi! Devi urlare nel microfono! Se urli nel microfono mi ti dai i soldi! Dai dai veloce veloce sgancia la grana bastardo! Dammi da qua bravo bravo! Ok non chiamare la polizia! Ok ok c'è... Appena faccio una rapina vengo investito da uno! Sali Gabby! Arrivo! Oh ragazzi ci abbiamo fatta rapina completata! Ma come rapina completata? Ho fatto una rapina! Sai che devi anche urlare nel microfono per farti dare i soldi più in fretta! Bellissimo! Ma dove sei? Oh non so cosa sta succedendo Lion ma non mi piace quello che sto vedendo! Va bene ragazzi io penso che questo sia tutto però per questo episodio di GTA Online! La rapina è stata completata con successo! Lion è stato a terra inseguito da 100.000 puliziotti! Non so ma ci rincontreremo! Quindi noi speriamo che questa serie vi piaccia e arriveranno anche nuovi ospiti! Ci saranno tante cose in pentola stanno bollendo e le vedrete tra poco! Intanto questo era un video un po' per mostrarvi il gioco! Quindi noi speriamo che vi sia piaciuto! E noi ci vediamo al prossimo! Ciao ragazzi! 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 Grazie a tutti.